Non ce l'ha fatta a rimanere al posto suo, Alessandra Celentano, cari amici, si è andata a scagliare contro un'allieva, quindi parleremo di gossip, parleremo di Amici22, ma prima di farlo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi oppure seguite la pagina Facebook, mi raccomando, e attivate se volete le notifiche in modo da non perdervi i nuovi video. Ma andiamo al fattaccio di oggi, perché ancora una volta l'insegnante di ballo non è stata dolce con le sue paroline, che stavolta li ha affidate a una dura lettera consegnata alla redazione e alla diretta interessata. La giovane ballerina ha letto il contenuto della letterina e, dopo averla analizzata nei minimi dettagli, ha protestato perché non ha accettato ciò che era stato detto, ciò che era stato scritto. Ad intervenire ci ha pensato anche il collega della Celentano, cioè Raimondo Todaro, che ha difeso la ragazza della scuola di Maria De Filippi. E questo non è l'unico episodio verificatosi proprio nelle ultime ore al programma. Alessandra Celentano se l'è presa con quest'allieva, mentre Rudy Zerbi ha paventato delle punizioni per ben due cantanti, mica uno. Chiederò alla produzione un provvedimento disciplinare. Non saranno pulizie o cose del genere. E coloro che hanno ottenuto un risultato drastico sono stati Ndg e Tommy. Eh sì, che non sono andati oltre il 2 in pagella, che è un voto veramente basso. Ci sarà, come sottolineato dal sito Blasting News che ci ha informato, un confronto con Lorella Cuccarini e Darisa, e poi magari qualcosa si capirà. Secondo me si capirà tutto. Nel corso dell'ultimo daytime di Amici, Alessandra Celentano ha giudicato così l'allieva, dicendo Nella sfida d'ingresso non mi sei piaciuto affatto. Ti ho trovata senza nervo, moscia, con gli stessi movimenti totalmente ripetuti all'infinito in tutte le coreografie che hai fatto. Mi ricordi una biscia incontrollata, a tratti invasata. Domenica scorsa sei stata veramente impresentabile. E successivamente ha criticato anche Todaro, dicendo Ti ha definita una ballerina super interpretativa e pazzesca. Cosa che lei non ha mai notato fino ad ora, ed anche il maestro è poi intervenuto. Raimondo ha detto Non ho mai detto questa cosa. E ad essere stata aggredita, insomma, in maniera verbale, è stata la ballerina Claudia, rimasta esterefatta e molto triste per il giudizio di Alessandra Celentano, dicendo Mi ha detto anche insipida. Questo non lo accetto, perché quando ballo veramente ci metto tutta me stessa. Perché per me la tecnica è importante tanto quanto mandare un messaggio. E quindi dovrà necessariamente superare il compito della maestra per poter evitare di dover subire altri trattamenti simili che magari ci possono essere in qualche modo in futuro. Recentemente invece Lorella Cuccarini si è vendicata di Raimondo Todaro. Lorella non ha preso affatto bene il ballo di Raimondo Todaro e Arisa, e allora così ha deciso di fare qualcosa. Sul suo profilo Instagram ha così pubblicato un video, un video in cui balla un lento con Emanuel e le scrive La vendetta è un piatto che va servito freddo. Mica male come coppia, che dite? E questa è stata, diciamo, la punzecchiata finale. Io non aggiungo altro per questa news, vi ringrazio però per l'ascolto. Se siete giunti fin qui, pollice in su. E noi ci vediamo alla prossima, sempre qua.